buongiorno ragazzi per la rubrica se chiara può cucinarlo puoi farlo anche tu oggi vi spiegherò come fare la cheesecake ai frutti di bosco iniziando dagli ingredienti che sono questi che ora vi mostrerò ecco gli ingredienti di cui avete bisogno biscotti zucchero a velo ricotta che la mia di santa lucia di galbani 750 grammi panna da montare burro colla di pesce frutti di bosco ho diviso un po i biscotti li metto nel mixer e l'icrito abbiamo amalgamato ricotta panna zucchero a velo e palla di pesce in questa ciotola e ora la versiamo sopra la base di biscotto che abbiamo messo in freezer bello che cosa quella è una foglia amore è una foglia amore ti giuro è una foglia mi voglia amore occhio no no piano 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 and this is the final result you guys we're gonna have it after dinner today super proud of myself parrucca da 5 euro parrucca da gasparri di la verità ferri che lo sapevi che erano finti i capelli e mi hai obbligato a fare delle coreografie imbarazzanti che era uno scherzo cioè era una cosa troppo forte anche per te quindi sei falsa fa quanto ami la mamma tanto quanto così così no così è poco si brava così il giusto amore così Sììììì! Cì!